6 miliardi in tre anni destinati alle pensioni dall'Ape, cioè la possibilità di lasciare il lavoro a 63 anni grazie ad un prestito per uscire prima dal mondo del lavoro, alle diverse possibilità di anticipo della pensione per categorie a rischio, fino ad arrivare all'annunciata 14esima destinata alle minime. Il governo Renzi supera le aspettative dei sindacati che avevano chiesto una manovra da 2 milioni e mezzo di euro. Noi veniamo da un periodo molto difficile per il mondo delle pensioni. Pensate all'ultima legge, la legge Fornero, che in pratica ha eretto un muro contro il quale si andava a sbattere tutte le esigenze. Avere fatto l'accordo con il governo il 28 settembre è per noi come aver abbattuto quel muro e quindi abbiamo aperto una serie di possibilità, Ivi compresa la flessibilità ma anche il riconoscimento dei lavori gravosi e dei lavori usuranti e di ridare qualcosa ai pensionati che in questi ultimi anni avevano solo visto dettagli sulle loro pensioni. C'è una strada nuova aperta anche sul discorso della ristrutturazione delle scuole, delle case per via del terremoto, è un discorso che è aperto anche con il sindacato perché il sindacato è interessato a queste situazioni. Nel quadro regionale poi attenzione viene data ai servizi, questa resta la priorità. Prima di tutto è l'assistenza, è l'assistenza che è un obiettivo a cui noi ci siamo battuti anche con la CISL, con la Confederazione ovviamente, l'assistenza è migliore e per una qualità di vita diversa per il pensionato che ha fatto una vita di lavoro e spera che almeno questo possa essere uno dei motivi per cui alleggerisce quel suo stato di cose.